Ciao raga, facciamo una prima analisi sul Ryokuju Toro Verde, perché finalmente vediamo a Uano qualcosa di lui, il suo aspetto e una parte del suo comportamento. La prima volta che lo vediamo a Marijo a parlare con Fujitora, per un motivo non so quale, ci è venuto a tutti da dire questo è un buon accione, questo è quel classico fancazzista, bello potente, sarà fortissimo, però alla fine è anche uno buono, no? E invece, e invece, ovviamente la prima volta che lo vediamo nel capitolo 1052 arrivare a Uano, in tanti abbiamo pensato questo arriva solo a scopo diplomatico, magari si porta via qualche nemico, tra cui Kaido, Big Mom, qualora fosse possibile, i primi ufficiali, tutto ciò che si poteva portare via per avere un po' di merito della marina aver catturato dei pirati molto importanti e non lasciare tutto il merito all'alleanza pirata, samurai, ninja, o magari incaricato da Sakazuki di andare a dialogare direttamente con il nuovo shogun, cioè Momonosuke, per poter mettersi d'accordo per un'apertura graduale, magari di Uano, e far sì che comunque lo stesso Sakazuki non voglia dare troppo potere e creare troppi problemi alla marina, quindi andando anche contro il governo stesso potrebbe essere un'opzione molto interessante, e invece no. Il capitolo 1053 ci cambia totalmente la percezione del personaggio, ma effettivamente, ragionandoci adesso, ci sta, ci sta questo tipo di personaggio, ma partiamo dall'aspetto estetico, tutti ce lo immaginavamo, bello possente, muscoloso, cosa che è, però molto molto di più, e invece è una versione, come già detto nel video precedente, tra Mick Jagger, Sylvester Stallone e Chad di Bleach, proprio una fusione perfetta, e lo vediamo anche essere parecchio crudele, ma parecchio, almeno se lo mettiamo in contraposizione a personaggi come Okiji e Fujitora, è davvero crudele. Vediamo che con le sue radici prende i due primi ufficiali senza grossi problemi, li stritola, gli assorbe l'energia, fa dimagrire Queen, vende King inerme e dice, non avrei mai perso contro di voi i due semplici ufficiali, che vergogna. Per poi parlare tramite l'umacofono con qualcuno e dire, mandami una nave da guerra, ma non dire nulla Sakazuki. Quel Sakazuki che fino al capitolo primo gli dice, non fare nulla di più di quello che ti è stato detto. Lui fa sì sì tranquillo e sembrava effettivamente ascoltarlo, invece adesso no, perché sembra quasi che lui voglia prendere l'approvazione, avere l'approvazione di Sakazuki portandogli chi? Luffy, la testa di Luffy. E un personaggio del genere pensa di riuscire da solo a portare via Luffy da tutti? E soprattutto Luffy stesso, sconfiggerlo? È particolare come personaggio. Questo profilo comportamentale però, se ci pensate, ci sta. Perché noi se andiamo ad analizzare i vari ammiragli che abbiamo conosciuto dall'inizio dell'opera ad oggi, vediamo che è un comportamento totalmente diverso da tutti gli altri. Abbiamo Kizaru, che è il classico svogliato, prende tutto con ironia, non si sa mai se è serio o se sta scherzando, e però esegue tutti gli ordini stando zitto. Se il governo gli chiede di fare una cosa, lui la fa. Se il grande ammiraglio gli chiede di fare una cosa, lui la fa. E se dice non farla, lui dice va bene, io me ne lavo le mani. Ed è un comportamento che abbiamo visto e ci sta. Fugitora è un buono, tanto che si toglie la vista pur di non vedere il marcio che c'è nel mondo. E lui non parla di marcio solo nei pirati, lui parla di marcio nel mondo. Quindi è una persona che ha preso una posizione stare nella marina, perché crede in questo ideale di giustizia, ma sa che il marcio non è solo nel mondo dei pirati, ma è ovunque. Il principio di giustizia assoluta di Sakazuki lo conosciamo tutti. Per lui i pirati sono il marcio da estirpare, sono le radici da prendere, estirpare e bruciare per non farne più nascere. E lui va a testa bassa, almeno ad oggi così sembra. E Aokiji ha ancora un'interpretazione un po' strana, non ancora chiara, perché lui è un po' un mix tra Fugitora, Kizaru, Aokiji. Sembra molto equilibrato, tanto che va via dalla marina perché perde lo scontro e non vuole sottostare al profilo di giustizia di Sakazuki. O almeno questa è la versione ufficiale, poi essendo che lui 99% nella sword, avrà un certo tipo di ruolo sempre all'interno della marina. Questo profilo di Ryokuju ci sta, perché lui è crudele al punto giusto, ma reverenziale verso Sakazuki. Ma non quell'essere reverenziale perché chi ne ha il capo e fa tutto quello che gli dice. È il tipo che dice io faccio quello che voglio perché so che Sakazuki mi darà un premio. E non perché me l'ha detto lui, ma perché ho fatto di mia iniziativa, voglio mostrarmi davanti a lui. E' una caratteristica un po' inquietante, devo dire la verità, che farebbe paura allo stesso Sakazuki in realtà. Perché? Kizaru esegue gli ordini, Fugitora, il suo principio di giustizia, lo stesso Aokiji, nonostante gli andava contro, ma non andava contro gli interessi della marina, lui sì. Lui sì, quindi è un po' una mina vagante. Passiamo al potere. Il potere è stupendo. Esteticamente non molto, ma per il resto è stupendo. Si vedono che escono delle radici a posto delle dita, assorbe i poteri o i liquidi o l'energia degli altri personaggi. Non penso possa farlo all'infinito e con grandissimi raggi di metri, chilometri, perché sennò vorrebbe dire il personaggio più forte di One Piece. Che comunque, se sta avendo il coraggio di andare da solo, almeno adesso sembrerebbe di apprendersi la testa di Luffy, tanto scasso non è. Quindi il fatto che lui non mangi è perché riesce ad assorbire le energie che gli servono o dagli altri o direttamente dalla Terra. Quindi con il principio della fotosintesi clorofiliana. Quindi chi ha fatto questa teoria, non solo io, ma chi l'ha fatta, ci ha preso ed era molto logica come cosa. Quindi nessuna grande surprise. Poi vediamo anche che lui, mentre si incammina, c'è il punto in cui un pezzo di Wano è completamente desertico. Non c'è erba, è tutto secco, tutta terra. Lui cammina e cresce l'erba. Quindi Oda non disegna le cose a caso. Del tipo ha assorbito così tanta energia che non gli serve e allora sta facendo crescere le piante. O lo sta facendo perché vede quel territorio deturpato e dice no, lo voglio rifar nascere. Bella cosa questa. Questa è particolare perché va sempre a prendere la sua controposizione, che per adesso abbiamo potuto capire. Poi magari si rivelerà un personaggio completamente diverso ovviamente, ma ad oggi con questi elementi possiamo dire che è stranissimo, è stranissimo. Sembra crudele, sadico, non gliene frega nulla, non obbedisce agli ordini, fa le cose di nascosto, ma le fa perché sa che potrebbe compiacere Sakazuki. E poi allo stesso tempo sembra dispiaciuto, almeno. Sembra dispiaciuto dal vedere Wano in quel modo e la fa risorgere, no? In un certo senso la rirende verde. E' stranissimo. Quindi ad oggi l'analisi è questa, poi sicuramente più avanti cambierà. Quindi ditemi cosa ne pensate e ne possiamo parlare nei video, nei commenti, dove volete. Ciao!